Se un giorno ti svegliassi senza memoria, circondato dalla morte e dal terrore. Chi sei? Non me lo ricordo. Un uomo con tante chiavi ha tante cose da nascondere. Senza risposte. Che sta succedendo? Senza via d'uscita. Come fai a conoscermi? Non mi fido di te. Io nemmeno. Ho avuto dei ricordi. Cattivi ricordi. Qualcuno ci sta osservando. Di chi potrai fidarti? Ci sta usando come cavie. È un assassino. Se non puoi fidarti neanche di te stesso. Conoscere la verità ti costerà la vita. Open Grave La verità ti non puoi finire. Grazie a tutti.